I compagni di strada peraltro più decisivi furono gli isolani, furono gli abitanti del Giglio e con loro sicuramente il rapporto si consolidò da un iniziale comprensibile di Fidenza al fatto che poi mi hanno anche onorato della cittadinanza onoraria. L'iniziale di Fidenza fu lo striscione con cui i gigliesi intimarono al commissario Franco Gabrielli di rimuovere la Concordia. L'isola temeva un disastro ambientale, iniziò un'operazione gigantesca, ruotare il relitto, rimetterlo in galleggiamento, trasferirlo in un porto sicuro. Quanto è costata tutta l'operazione Concordia? Al contribuente italiano nemmeno un centesimo e questo vorrei ricordarlo perché purtroppo nel nostro paese le emergenze non sempre si sono concluse positivamente come la vicenda della Concordia. Si è parlato di oltre un miliardo, qualcuno ha parlato addirittura di due miliardi di dollari. Giglio Porto diventò il cantiere del progetto Parbacling, la rotazione. Il commissario Gabrielli respinse la richiesta di sottoporre il progetto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici concentrando su di sé la responsabilità dell'operazione. Il movimento di tiro e controllo durò 19 ore, per l'isola fu un'altra lunga notte. I tecnici avevano stimato il distacco dalla scogliera con una forza di tiro di circa 5.000 tonnellate, 6.000 era la soglia del fallimento. La nave si girò a 6.800 tonnellate, quindi passammo i 6.000 e dovemmo aspettare ancora diverso tempo per arrivare all'affatitico distacco della fiancata della nave dal fondale. non furono tra i momenti più tranquilli della mia esistenza professionale. Gabrielli condivise il successo con i suoi compagni di strada, i gigliesi. Uno di loro, argentino, gli regalò una delle sue barche e una lettera scritta distinto su un foglio di carta gialla con parole di affetto e gratitudine.